La casa cantoniera è un'altra di quelle ambizioni che noi abbiamo perché è al centro del paese, perché noi la curiamo, almeno per quanto riguarda l'erba di quant'altro, che siamo in ritardo in questi giorni, ma prima di Pasqua la faremo, perché è al centro del paese, ha una realtà di un piccolo parco che può servire per polarizzare tutta una serie di attività, è qualcosa che ci può servire come mostra, come un utilizzo pubblico importante, anche per renderla fruibile. Il problema è che inizialmente c'era la volontà da parte dell'ANAS di smobilitarle, quindi metterle in vendita, in una seconda fase c'è stata invece la volontà di aprire delle trattative di locazione e vi dico lo stato dell'arte di quella che era la nostra iniziativa per quanto riguarda la casa cantoniera. Noi sulla casa cantoniera abbiamo aperto una partita di discussione e vorremmo fare un ragionamento di locazione generosa, cioè prenderla per 20 anni o 30 anni e fare tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria affinché sia finalizzata ad un utilizzo. Questo è un qualcosa che ci auguriamo che nel 2019 si arrivi alla conclusione. Lo voglio dire perché è davvero che io vi dia un'informativa su quello che è lo stato dell'arte.